Il Trastevere capolista fa la voce grossa ed in casa del Nereto rifila un poker netto agli uomini di Bitetto. Successo è maturato tutto nella ripresa con le due doppiette di Proia e Santilli. Per il Nereto, uno stop preventivabile è considerato lo spessore dell'avversario. C'è però voglia di ripartire dalla buona prestazione offerta nel primo tempo e cancellare gli errori della ripresa. Con le immagini di Emiliano Gigliotti, passiamo agli elizzi della partita. Dopo un inizio di gara piuttosto bloccato, la prima conclusione verso lo specchio della porta è di La Penna, nessun pericolo per Digglio. Il Nereto risponde con pedalino dalla lunga distanza, il suo tentativo si spegne a lato. Al diciassettesimo buona chance per Maidana, ben liberato sulla fascia mancina, la botta d'esterno corlo si infrange larga. Nel finale di prima frazione, l'occasione più limpida capita sui piedi di pedalino, ben servito da Boito. La botta centrale è neutralizzata da Semprini. A rientro dagli spogliatoi, subito una grande occasione potenziale per il rosso-blu. Boito serve Maidana. Pedalino è solissimo a centroarea ma il pallone non gli arriva. Da lì, però, è dominio tutto laziale. La prima sfuriata è di La Penna. Il tiro cross esce a lato. È soltanto l'antipasto del gol che arriva al cinquantottesimo con Proia, autore di una vera e propria prudezza per la categoria. Il pallone, respinto dalla retroguardia locale, termina sui piedi del numero dieci Amaranto, che incrocia al volo ed infila brillantemente Diglio. Questo scuote gli uomini di Mazza, che si sbizzarriscono a più riprese e con Giordani prima, da fuori, e con Zannipoli poi, testano i riflessi di un attento Diglio. Al sessantacinquesimo, però, la capolista raddoppia. Sugli sviluppi di un corner, il pallone viene spizzato sul secondo palo. Il solito Diglio ed il legno dicono inizialmente noi laziali, ma sulla ribattuta è troppo semplice per Proia gonfiare nuovamente la rete. Nel finale di gara un episodio sembra andare in favore del Nereto. Il brutto intervento di La Penna, infatti, è punito con il rosso diretto. Non cambia, però, l'economia della gara, perché in dieci il Trastevere cara addirittura il Tris. Gioiello del neoentrato Santilli, che si libera bene, si aggiusta il pallone sul mancino ed incrocia a meraviglia. È festa romana. Il Nereto prosegue per l'orgoglio senza impensierine mai semprini e il colpo di testa di Balducci esce largo. Il Trastevere, al contrario, è implacabile ed inferiorità numerica dilaga ancora con il giovane Santilli. Stavolta, per il classe 2003, è troppo semplice siglare da due passi. A porta sguarnita, il poker per i suoi. Non succede più nulla e dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Successo largo e meritato per gli Amaranto Celesti. Due doppiette, di Proi e Santilli, costringono al passivo pesante il Nereto. Prossima tappa è il Porto d'Ascoli, sempre al comunale. Sarà l'occasione del pronto riscatto? Credo che il campo abbia influito tanto sulla prestazione del primo tempo, anche se poi siamo stati in gara, secondo me, anche discretamente. Però abbiamo fatto un po' di fatica a livello di qualità di giocato, soprattutto negli ultimi 30 metri. Sì, diciamo che il secondo tempo siamo partiti forti, l'abbiamo messo un po' alle corde. E onestamente penso che il secondo tempo abbiamo fatto veramente un'ottima partita su questo campo. Ripeto, non è difficile esprimere qualità, però abbiamo messo sia quella che intensità di gioco. Sarà una curiosità, perché Proia in Serie D? Questo bisognerebbe chiederlo a lui, io credo che ne abbiamo tanti di giocatori. Quando parlo di metterli in vetrina non parlo solo dei giovani, secondo me c'è qualcuno che probabilmente meriterebbe qualche cosina in più. Speriamo che magari il prossimo anno li possiamo vedere su qualche altro palcoscenico. Sì, più che il primo tempo abbiamo giocato forse meglio noi. Non abbiamo contenuto soltanto il Trastevere, ma abbiamo anche cercato di incidere, di fare il gol. Abbiamo avuto anche delle buone opportunità, non limpidissime, ma delle buone opportunità. Poi nel secondo tempo ho subito la rete un po' perché magari loro hanno accelerato un po' di più. E questo ci ha messo a nudo un po' anche quelle che sono le nostre problematiche, perché è inutile dirlo, nasconderlo. Insomma, noi abbiamo delle difficoltà, anche numericamente i giocatori, nei cambi, anche davanti. Avevo anche, non avevo opportunità, ho finito con due centrocampisti come attaccanti, per cui noi difficoltà ce le abbiamo. Certo, anche noi, del resto, staff tecnico e anche giocatori, ci mettiamo del nostro. E purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione che non dovremmo mai avere.